Sicuramente già saprai che documenti e scritture contabili hanno l'obbligo di essere conservate per almeno 10 anni. Neanche le fatture elettroniche si sottraggono a questa necessità. Con Fatturazione Elettronica di Aruba non dovrai preoccuparti di tutto questo. Le fatture elettroniche inviate e ricevute e le comunicazioni finanziarie verranno automaticamente poste in conservazione, con una procedura del tutto trasparente per te, nel pieno rispetto della normativa e per tutta la durata del servizio. I documenti conservati saranno sempre visibili dal pannello di gestione del servizio e sarà possibile scaricare il pacchetto di archiviazione per essere esibito in caso di controllo fiscale. Inoltre, qualora tu desideri conservare i tuoi documenti con altri sistemi o affidarti al servizio di conservazione di altri gestori, la modalità di download massivo ti sarà molto utile per eseguire l'operazione di spostamento in modo rapido e sicuro. Adesso che sai come funziona la conservazione delle fatture, vai al prossimo video per saperne di più.